Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io. Perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Nasce tutto da questo quando l'allora direttore della stampa affidò all'inviato di guerra Massimo Gramellini, interpretato nel filme da Valerio Mastandrea, la possibilità di rispondere alle lettere più accurate dei lettori. Scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro, queste lacrime. Metticele dentro. Un inaspettato successo, capace con le parole giuste di raggiungere tutto e tutti, e che ha prodotto una rubrica di grande fortuna e un libro, fai bei sogni, appunto, scritto dallo stesso Gramellini, che si è trasformato in un best-sell. Tutte le sere, quando ero a letto, aprivo gli occhi di colpo nel buio, sicuro di trovarla seduta sul bordo del letto. Tutto questo Marco Bellocchio oggi lo porta sul grande schermo, raccontando la storia di quel bambino, la cui mamma, amatissima, un giorno è misteriosamente scomparsa. Avevo nove anni quando morì. Ciao Massimo! Voglio vederla. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Cresciuto da un padre autoritario, il bambino è alla ricerca di una spiegazione che non trova per quello che è successo. Se lei fosse ancora qui. Se, il se è il marchio dei falliti, in questa vita si diventa grandi nonostante. Il protagonista ormai adulto, Massandrea, affetto da attacchi di panico, non può fare altro che con l'aiuto della dottoressa Berenice Pesciò cercare di metabolizzare l'accaduto. Sua madre, pur amandolo, si è tolta la vita. Va bene a dieci anni, ma a venti, a trent'anni. A nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Marco Bellocchio dirige con stile, con una fotografia livida, una storia che però, che si ami o meno, Gramellini, nel suo passaggio su grande schermo perde molto della sua empatia. Difficile emozionarsi davvero per la vicenda del piccolo protagonista, ancora meno per quella del Massandrea adulto. La storia di una guarigione, di un cambiamento, di cui resta però solo una parola, una carezza, quella di una mamma per il suo bambino. La storia di un'altra.